Ho letto ieri una nota in questo senso altrettanto costruttiva e positiva della Commissione che conferma anche i grandi progressi che il Governo sta facendo in queste ultime settimane e quindi con la Commissione troveremo le soluzioni adeguate per affrontare le questioni sollevate relativamente al completamento della rata del 31 dicembre, quindi della rata in sospesa di 19 miliardi e al tempo stesso apriremo un confronto più complessivo che data la dimensione del programma ha bisogno di avere risposte adeguate.